Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Cambio della guardia per la ricostruzione post-sisma, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha firmato lo scorso 30 dicembre il DPCM per la nomina del senatore di Fratelli d'Italia Guido Castelli come nuovo commissario. Il provvedimento deve passare ora al vaglio della Corte dei Conti prima della pubblicazione, ma ad ufficializzare in qualche modo la notizia che vedrà l'ex assessore regionale prendere il posto di Giovanni Legnini e il ministro all'agricoltura Francesco Lollobrigida, come lui di Fratelli d'Italia, è molto legato alle marche. In un post ha infatti inviato i suoi auguri di buon lavoro al senatore Guido Castelli, nuovo commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma del 2016. Un compito di rilievo, si legge ancora nel suo post, ma soprattutto di grande responsabilità, che siamo sicuri saprà assolvere con serietà, competenza e spirito di servizio, conoscendo in profondità proprio uno dei territori maggiormente colpiti dal terremoto del centro Italia. Castelli era sindaco di Ascoli Piciano proprio nel 2016 e da ultimo ha ricoperto l'incarico di assessore regionale alla ricostruzione. Una notizia straordinaria per le Marche e tutto il centro Italia, dichiara invece la senatrice Elena Leonardi, anche lei di Fratelli d'Italia, che ringrazia il premier Giorgia Meloni per aver dimostrato ancora una volta una particolare attenzione verso la regione Marche. Una decisione cara nell'area è presa in stretto accordo con i governatori di Marche Abruzzo Francesco Acquaroli e Marco Marzilio, che negli anni si sono battuti per dare centralità alla ricostruzione post-sisma. Di certo una buona notizia, specie per il cratere Piceno, che Castelli conosce molto da vicino, tanto che il sindaco di Acquasanta Terme, Sante Stangoni, nonostante di area PD, si complimenta con il futuro commissario. Quindi faccio un in bocca al lupo all'onorevole Castelli per questo nuovo ruolo e spero che ci sia una continuità e soprattutto sempre più un'accelerazione verso il ripristino dei fabbricati e della vita quotidiana di questi luoghi, nonché anche sapere a breve anche gli essi di tutti i bandi che sono stati presentati per capire effettivamente poi le potenzialità dei nostri territori.